A un centinaio di metri, il vigile del fuoco salito sulla scala ruppe il vetro della finestra e un soffio di aria fredda si diffuse nella stanza. Dunque il temporale si è spostato a sud, disse Cristina con gratitudine. Era rimasta terrorizzata e intrappolata nella stanza. Mentre aspirava avidamente l'aria fredda, suonò il telefonino. Ti hanno liberata, chiese il figlio. Arrivo appena posso. Cristina esitò. Il figlio abitava a un centinaio di metri da lei. Ricordò quando lei era importante e alloggiava col figlio negli appartamenti presidenziali degli alberghi di tutto il mondo. Poi il figlio non aveva voluto vivere con lei e adesso lavorava in un elettrauto anche se avrebbe potuto fare molto di più servendosi a suo tempo del potere della madre. Alla memoria di Cristina affiorarono certe cose che diceva suo padre. Tuo figlio non riuscirà mai ad essere qualcuno perché tu lo proteggi troppo, non lo alleni alla vita. Il padre l'aveva avvertita che suo figlio l'avrebbe delusa. Eppure quel giorno Cristina si chiese e se io dovevo fare l'esperienza di avere un figlio che mi deludeva? E se mio figlio doveva fare l'esperienza di parassitare su di me per poi allontanarsi da me? Annui ha i suoi stessi pensieri. A te sei il figlio con gli occhi stanchi, fissi al nuovo modo di considerare la sua vita e quella del figlio.